Niente, sto facendo questo video perché il Marconi, quello leader di C.D.Mare, iscrivetevi al canale mi raccomando, dalla mia faccia si vede che mi sono appena svegliato, vabbè comunque, iscrivetevi al canale, mettete mi piace video dove vedete la mia faccia, non perché dovete vedere me, un talbanics, e niente, siamo sotto le feste, quindi saluto, buon Natale. Ciao a tutti, voi non sapete neanche chi sono, ma vabbè, io sono Sabrina, sarò apparsa una o due volte nei video di Daniele, ma vabbè, ho deciso di fare questo video per augurarvi a tutti un buon Natale e un felice anno nuovo, a tutti gli iscritti e alle persone di questo video, e niente, questo è un mio alberello, un pesennino, e niente, buon Natale a tutti e un felice anno nuovo, ciao! Allora, siccome Daniele Marconi mi ha rotto il cazzo per circa tre giorni, io ora sono qui per augurare buon Natale a tutti, a tutti i seguaci del suo canale, che è il migliore canale di Youtube Italia, lo ricordiamo, dopo quello di Dallimello, e... auguri a tutti, buon Natale, e... continua così perché sei un grande, fai video bellissimi, i gameplay sono stupendi, cioè, c'è cosa più bella del mondo, nemmeno Stefani, che, madonna ragazzi, chi cazzo è? E... niente, e... ciao a tutti e buon Natale! Ciao a tutti, sono Virginia, e volevo augurare a tutti quei fan di Daniele Marconi un buon Natale! Ciao a tutti carissimi amici di Daniele Marconi, volevo augurarvi delle bellissime feste, e... per chi ha visto il video di Luca Kongerson dell'anno scorso, beh, io sono più cazzo, e... Daniele Marconi è un grande, buone feste, auguri! Allora, ciao a tutti ragazzi, io sono Claudia, la cucina di Daniele, e... niente, volevo soltanto augurarvi un buon... un buonissimo Natale, e... diciamo, nuovo! Questo qui è il mio albero, è il più pacchiano del mondo, penso! Qui c'è una famiglia d'orsi polari, sotto un venifrega, ma ve l'ho detto lo stesso! E niente, iscrivetevi al canale! Ciao a tutti, io sono Inve, conosciuto anche come pesadonista di Invernazionale e altre storiate del canale di Fox, non mi ricordo nemmeno come si chiama, ma comunque, con questo albero ancora da fare, vi un bel buon Natale, giustamente, vi auguro buon Natale, buone feste, continuate a vedere i nostri video perché sennò vi picchio, l'Invernazionale naturalmente continueranno, ci saranno di nuovo, verranno di nuovo, Fox sarà ancora più presente, io pure, niente, vi auguro buon Natale e felice anno nuovo dal vostro inve. Allora, ciao a tutti amici dei Marconi, iscritti per solidarietà, e niente, voglio augurarvi un buon Natale, iscrivetevi a The Big Boss Uncharted, link in descrizione. Buonasera a tutti, siamo qui in terrazza a fare il fatidico video degli auguri di un buon Natale e di un felice anno nuovo a tutti voi iscritti. Ovviamente vi devo presentare perché nessuno di voi mi conosce, vediamo qui. E io sono il fatidico Piro, che fa i gameplay insieme a Daniele Marconi, sui giochini di merda che ha lui. Vabbè, gli do una mano su fare i gameplay, questa roba qui, perché se le facesse da solo, diciamo, dopo un po' finirebbe il repertorio, il registro per fare, divertire una persona. Comunque, rinnovo l'aguri di buon Natale, un felice anno nuovo, e che sia felice questo anno perché tutti gli anni si dice felice anno nuovo e poi è sempre un anno di merda, come sempre. Buonasera a tutti. Ed eccomi anch'io, con il CE, visto che non ho ancora fatto l'albero, a questo speciale di Natale. Allora, il 2015 per me è stato un anno importantissimo perché comunque ha dato la mia svolta sul canale, ovvero ho caricato più video, ho scoperto Kingmaster, che comunque non è una grandissima applicazione, però comunque sul telefono è l'unica che trovo decente, e mi ha fatto fare, mi ha mandato avanti per fare tutti questi video un pochino più bellini di fare soltanto una ripresa senza montare niente. Quindi, il 2015 è stato l'anno di svolta, l'anno che veramente ho voluto dare un via al canale per il motivo, per il semplice motivo che Cisimare sta un po' credendo in morte via per dei vari problemi, non ci sa se poi ti riesci a ritirare assù, però cazzi e mazzi, e quindi mi stazio in questo canale qui. Io vi do l'augurio a tutti, a quelli che mi seguono, a quelli che non mi seguono, a quelli che sono iscritti, a quelli che non si vogliono iscrivere, a quelli che sono già iscritti, a tutti quanti, a tutta la mia staff che mi dà una mano, staff, vabbè, a tutti i miei amici che comunque mi danno una mano a registrare video che non sono da solo, come Limbe, Mudea, Jacopo, tutti quanti, il Montarbano che fa la mia musa ispiratrice per i cortometaggi, che ritornerà anche lui, e per un nuovo, vabbè, poi vedrete. Quindi io vi saluto, buone feste a tutti, buon Natale a tutti, e buon ultimo dell'anno, buon Capodanno, buon prossimo anno, io e il C, e il Bonerbretto e il Cattivo, la mia stanza, e siamo verde. Buonasera a tutti.